Mostrare alla città e al territorio il livello di preparazione musicale e la capacità artistica degli studenti del liceo musicale Sebastiano Sata di Nuoro, che a pieno titolo vuole essere un attore della scena culturale dell'Atene Sarda. Celebrare in musica il centenario della morte del poeta che dà il nome all'istituto. Sono queste le finalità del concerto di fine anno del liceo musicale in programma nel Teatro Eliseo il 5 giugno a partire dalle 19. Il programma della manifestazione è stato illustrato stamattina dalla dirigente Carla Marchetti. All'incontro sono intervenuti anche i docenti Mauro Usai, Ignazio Pes e Battista Giordano, che hanno composto delle musiche originali proprio in vista dell'iniziativa. La prima parte della manifestazione sarà dedicata a Sebastiano Sata con la proposizione di alcuni brani i cui testi sono stati tratti dalle poesie Madre di Orgosolo, Nuoro d'Inverno e Ortobene. Un lavoro curato da Mauro Usai con l'utilizzo dei laboratori di nuove tecnologie. Il maestro Battista Giordano insieme agli alunni ha composto Rebellion Casual, mentre Ignazio Pes presenterà il brano Il gioco di Amarci. Una sfida quella della composizione per gli studenti e gli insegnanti, che dà il lustro al concerto, che proporrà anche i grandi classici della storia della musica. Da Bach a Donizetti, da Mozart a Chopin e a Brahms, ma con un tuffo nella musica moderna con Pat Metini. Inoltre in occasione del concerto verranno raccolte le firme degli ex alunni delle magistrali al fine di costituire un'associazione. Il concerto rappresenta l'avvio dei festeggiamenti sattiani. In quest'ottica l'istituto sta recuperando gli archivi storici che raccontano la storia del prestigioso istituto scolastico.